Amma, ama sempre. La regola suprema della correzione fraterna è l'amore. Volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i defetti degli altri in silenzio e nella preghiera per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a corrersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchieriggio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza. Camminiamo con gioia e con pazienza su questa strada, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Grazie.